Parte nelle Marche in Umbria il numero unico di emergenza europeo 112. Sulla base della convenzione sottoscritta fra le due regioni, sarà gestito da una centrale unica di risposta collocata ad Ancona. Nella provincia di Pesaro Urbino il servizio entrerà in funzione dal 30 marzo 2021, mentre gli altri numeri di emergenza resteranno comunque attivi. Il nuovo numero sarà contattabile da rete fissa, reti mobili e anche attraverso l'app gratuita 112 Where Are You. La centrale unica di risposta gestirà la richiesta di soccorso smistando la chiamata, secondo la tipologia di intervento necessario, ai carabinieri, alla polizia, ai vigili del fuoco oppure al soccorso sanitario. Questo numero praticamente riunisce sotto un unico numero, appunto l'112, tutte le numerazioni di riferimento per gli interventi che sono richiesti dai cittadini riferiti a per esempio al soccorso sanitario, il 118, il soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco, l'intervento delle forze dell'ordine, quindi di polizie e carabinieri, il 113 e il 112. Questo non significa che questi numeri finiscono di funzionare o non danno più risposte. Cosa cambia per il cittadino? Cambia che ogni volta che il cittadino chiama questa numerazione di emergenza, che sia il 115, 113 o gli altri che abbiamo poco fa detto, risponderà comunque la centrale unica di risposta 112. Questo consente di fatto di localizzare in brevissimo tempo la persona che chiama, quindi di avere un riferimento preciso dove la persona, il fatto è avvenuto e di inoltrare per l'intervento rapidamente le forze competenti. Il vantaggio per le forze schierate sul campo, sia sanitarie che forze dell'ordine, sono i vigili del fuoco, è fondamentale perché in casi per esempio di chiamate multiple per lo stesso evento, la centrale unica di risposta svolge una funzione importantissima di filtro delle chiamate, consentendo di fatto agli operativi, quindi a tutti quelli che intervengono sul fatto di avere la possibilità di svincolarsi da chiamate inutili o multiple sullo stesso evento. Sì, è un progetto che è stato realizzato dai nostri tecnici, dall'ingegnere Ferretti e penso che questo serva per sottolineare l'importanza di mettere in rete le esigenze dell'emergenza non solo sanitaria, ma anche del soccorso pubblico dei vigili del fuoco, della sicurezza pubblica, quindi polizia e carabinieri, con una centrale qui ad Ancona che opera per entrambe le regioni ma che travalica anche addirittura le nostre due regioni arrivando persino in Toscana dove se ne presentasse l'esigenza.